Lì eccoci in studio per un avviso importante che riguarda la sicurezza delle carte Bancomat e delle carte di credito. Ce ne parla Elisabetta Cardinale. La sezione Polizia Postale delle Comunicazioni di Bolzano comunica che nuovamente anche nella nostra provincia sono state effettuate transazioni illecite di denaro grazie alla cronazione di carte di credito o carte Bancomat. Tanti risparmiatori che si sono visti alleggerire il conto corrente grazie a queste operazioni. Per questo gli agenti di Polizia Postale invitano tutti i cittadini alla prudenza e al controllo ogni qual volta si proceda ad un'operazione di ritiro ad accertarsi che la tastiera sulla quale si digita il codice sia quella originale e non una sovrapposta. In ogni caso è bene, mentre si digita il codice di sicurezza, coprire con una mano l'azione per impedire ad una possibile telecamera piazzata dai malviventi di riprendere i numeri segreti delle vostre carte. E per ciò che riguarda le carte di credito, durante i pagamenti online è utile al momento di digitare il codice verificare sul display di essere su una pagina HTTPS, così denominata, visionabile sulla barra degli indirizzi e che vi sia un lucchettino giallo sulla stessa pagina in fondo a destra.